Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno! Questo è il mio panorama di Pasquetta. Sono alle pendici dei Monti Sibillini, ad Amandola, dove sto passando Pasqua e Pasquetta in famiglia. E voi invece cosa state facendo oggi? Fatemelo sapere nei commenti. Pasqua in famiglia, con un bel pranzo pasquale di quelli tosti, con mia suocera che fa le olive alla scolana più buone sulla faccia della terra. Mi dispiace per gli altri, ma ho assolutamente certezza che sia così. Oggi qui c'è il sole, ma è freschino, come potete vedere c'è ancora la neve, a qui da dove posso vederla io. Alle pendici dei Monti Sibillini, appennini, marche, insomma, avete capito. A proposito di pranzo familiare, aneddoto fantastico con protagonista il mio super nipote Ludovico, che mi fa, zio Fabrizio, ma perché nei video di YouTube ti si sente sempre parlare ma non ti si vede? E allora spiego al caro Ludovico che è perché, siccome mi occupo in ambito comunicativo professionale di altri settori, che non sono i videogiochi, non volevo sovrapporre, come dire, la mia immagine, che alcune persone conoscono al di fuori ai videogiochi, solo e soltanto nel mondo dei videogiochi. E Ludovico mi risponde, ah perché sei troppo vecchio per far vedere che fai i video sui videogiochi su YouTube. Ah come umano Ludovico, a parte scherzi grande Ludovico, forse ha ragione pure lui, ma che volete fare? Sono malato di videogiochi e continuerò così. E so che di quarantenni, di cinquantenni e anche di sessantenni sul canale ce ne sono. E noi andiamo avanti così perché ci piace giocare e secondo me è una cosa bellissima da fare oggi, domani e anche dopo domani. Allora, oggi non ci sono novità, ho chiesto io a Konami di non proporre novità perché non potevo fare il video. Scherzo ovviamente, però mi è stato segnalato da vari commenti, vari messaggi che non c'era niente oggi dentro al gioco. E allora approfitto per darvi un po' di informazioni che potrebbero esservi comunque utili per fare più GP e fare più punti eFootball. Allora, il consiglio più semplice e più banale che ho fatto già in altri video è quello assolutamente tutti i giorni, anche se non avete il tempo di giocare, di loggarvi all'interno del gioco, perché ogni giorno il loggarvi vi consente di avere un bel po' di bonus di vario genere, punti football, GP, e quindi fateli, fateli, fateli sempre perché comunque è un vantaggio e che non vi costa assolutamente nulla. L'importante è inserirvi all'interno del gioco, loggarvi e vi arrivano i bonus. Un'altra informazione importante, questa volta arriva da Francesco Bruno, Francesco lo dovremmo ringraziare tutti perché ci ha dato un'informazione molto 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 importante, è che se vi loggate ancora in PES 2021, non i football, PES 2021, anche lì c'erano i bonus di login quotidiano e lì ogni tot giorno ci sono i punti football, beh ragazzi, se andate lì dentro, i punti football, se avete collegato il vostro Konamid, lo stesso Konamid tra PES 2021 e con eFootball, beh i punti football vi arriveranno direttamente, direttamente nel vostro account eFootball, loggandovi in PES 2021, cosa molto buona, quindi potete fare una sorta di combo di punti football sia dai football sia da PES 2021 e in tal modo aumentate la disponibilità di punti football per acquistare giocatori, per acquistare rinnovo dei contratti, punti ESP, insomma tante cose, tante cose potete fare con i punti football. Tra l'altro io non l'ho provato, ma presumo, presumo che se vi loggate con lo stesso Konamid all'interno dei vari titoli di football, cioè su PS4, su PS5, su PC, su Xbox, su Xbox Series X, eccetera, dovreste poter in qualche modo sfruttare tutti i punti football poi su uno stesso solo account. Però io questo ancora non l'ho provato sui football, non ve lo do per certo, quindi non vorrei darvi un'informazione sbagliata. Però io ci proverei, perché credo che se voi vi registrate con lo stesso Konamid, il Konamid è l'unica cosa che si può fare in cross save. Noi che giochiamo su più piattaforme, speriamo che prima o poi potremo loggarci su mobile, su PlayStation, su PC senza problemi e avere tutto il salvataggio in cross, cioè avere tutti i bonus, tutta la nostra squadra Dream Team pronta per essere utilizzata su PS5, su PC, su Xbox Series X, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, io spero che con queste informazioni avrete più punti football e più GP, se anche la questione del login quotidiano non fosse chiaro, capisco che per tanti di voi sono informazioni banali, ma ci sono tante persone, ho letto nei commenti dei video, che invece arrivano ai football solo in questo momento, non avevano giocato ai precedenti PES, non avevano giocato alle campagne pre-season, che hanno portato a vari vantaggi, quindi adesso potrebbero avere bisogno di queste informazioni. Ragazzi, vi auguro ancora buona Pasquetta, questo è l'ultimo video outdoor che faccio, da domani si torna al lavoro, davanti al PC, davanti al monitor, e vedrete che saranno in arrivo molti, molti contenuti sui football di oggi e sul football di domani, non tanto in là, perché ci sono tante indiscrezioni in merito al prossimo aggiornamento. Arriva tutto, abbiate solo un po' di pazienza, che oggi ancora mi godo queste belle montagne, questa bella aria fresca di montagna. Io vi ringrazio per l'attenzione come al solito e vi do appuntamento al prossimo video. Se ancora non siete iscritti al canale, fatelo subito, perché così ricevete tutte le notifiche sui nuovi video, ed anche magari mettete le notifiche per la zona community dove vi segnalo tante altre cose interessanti. Buona Pasquetta ancora, buon divertimento con amici e parenti, al prossimo video. Ciao!